L'alberghiero di Silvi dà il via all'open day in un modo veramente particolare coinvolgendo le persone qui durante la preparazione dei dolcetti, in questo caso anche il parrozzo. Come nasce questa iniziativa? Allora questa è nata un po' in collaborazione anche con il centro commerciale e appunto come diceva per questo open day che è la giornata che la scuola apre alle famiglie dei ragazzi che stanno frequentando l'ultimo anno delle scuole medie che decidono di iscriversi e quindi è un momento pure per mostrare cosa si fa nella scuola alberghiera. Questi sono ragazzi del secondo anno quindi sono ancora abbastanza piccoli perché la scuola di Silvi diciamo che quest'anno ha il terzo anno che è aperto però già vediamo che sono abbastanza volenterose e già si muovono molto bene perché comunque questa è una scuola che si ha la passione per questa tipologia di lavoro comunque la crescita avviene anche abbastanza velocemente. Una chicca sui dati, in questi anni sono aumentate le iscrizioni all'alberghiero? Allora ci sono molte motivazioni, un pochino diciamo anche a tutte queste trasmissioni televisive, diciamo che è ancora una scuola che va molto di punta perché le iscrizioni sono molto grandi, infatti è una scuola dove non ci si può lamentare per gli iscritti. Naturalmente visto che appunto siamo qui in tv tutti i ragazzi che sono interessati sappiano che comunque l'idea della televisione come spinta va bene però devono pensare che questo lavoro è un lavoro molto di sacrificio e in televisione magari ci si arriva però si deve fare un altro, un po' un giro più faticoso prima, un po' di gavetta. Grazie Grazie Grazie